Ciao, sono Giacomo Baranzini, da oltre vent'anni mi occupo di immobiliare a Varese. Oggi siamo a Lissago per visionare una splendida villa disposta su un unico livello. Vi ricordo che questo è un video a 360 gradi per cui potete muovervi all'interno della ripresa e visionare ogni angolo dell'inquadratura. Vedete subito il panorama che si gode da questo splendido immobile che è una vista lago piacevolissima in un contesto estremamente verde e la particolarità di questa villa è che è disposta tutta su un unico livello. Adesso vi faccio fare un giro del giardino e vi invito naturalmente a visionare sul nostro sito i dettagli quali le planimetrie e le foto degli interni ma soprattutto a fissare un appuntamento se volete visionare questo splendido immobile. Il giardino è disposto su più livelli, in questo momento abbiamo le prime fioriture e la zona di Lissago è estremamente tranquilla ma anche tutto sommato servita, comoda per un ingresso autostradale piuttosto che rientrare in centro città. Abbiamo anche inoltre un piccolo appartamento completamente indipendente su un livello più basso che ha l'accesso diretto al giardino. Ora andiamo a visionare il resto del giardino. Una zona per fare un orto oppure perché no magari realizzare anche una piscina. la casa potete vedere è già dotata di pannelli fotovoltaici per se non sbaglio 3 kg. ecco il vero proprietario della villa è qui che fa il suo lavoro di cane da guardia. e qui c'è la discesa al garage che è molto ampio. eccoci. Vi invito a visionare assolutamente questa splendida villa e vi aspetto. Ciao.